Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ebbene sì, ho tolto la maglia della nazionale, ho rimesso quella del Milan. In questo periodo ci sarà spesso questo cambio di maglia, perché insomma, tra la nazionale e gli europei e il Milan, che comunque va seguito sempre e comunque, alternerò questi due contenuti. Allora, like subito, iscrizione e vi ricordo anche che sono usciti due video, anzi due, non qua, due video sulla nazionale, post partita Italia Albania e il pagellone Time, dove sono stato spietato ragazzi. Vi lascio entrambi i video nelle schede. Allora ragazzi, si torna a parlare di Teo Hernandez, perché ci tengo a precisare una piccola cosettina al riguardo, visto che leggendo in giro vedo tanta gente tranquilla e, come dire, serena al riguardo, mentre il sottoscritto è particolarmente spaventato, non tanto dalle parole di Teo Hernandez, che abbiamo già commentato, ma per la situazione rinnovo contratto, che è di primaria importanza secondo me. Prima di affrontare questo discorso, rimanendo sempre lì sulla fascia, sulla fascia sinistra difensiva, vi dico che pare che il Milan abbia fatto passi in avanti per prendere Gimenez, l'esterno sinistro del Real Madrid, e il Milan vorrebbe prenderlo per 5 milioni di euro. Non credo che sarà lui eventualmente il vice Teo in questa stagione, perché comunque è molto giovane, ha 19 anni. Poi io sono dell'idea che se il ragazzo è valido e se Fonseca riterrà opportuno tenerlo in prima squadra in pianta stabile, ben venga, io non sono tra quelli che se uno non fa 23-24 anni non lo vuole in prima squadra. Se il giocatore vale, sicuramente per me, diciamo, lato mio sarei più che contento. È ovvio che mi è un po' acerbo, l'ho visto giocare a tante qualità, tanti spunti interessanti, va un attimino sistemato tatticamente, diciamo così. Probabile che, qualora venisse effettivamente acquistato, verrebbe girato nel progetto Andre 23 nel Milan in Serie C, quindi sarebbe sicuramente un tassello decisamente importante per la squadra Young del Milan, chiamiamola così. Torniamo a Teo Hernandez, ragazzi. Ho letto diversi commenti, i tifosi milanisti, a dire sempre esagitati voi che vedete del marcio ovunque, il contratto non scade mica quest'anno a Teo Hernandez, non scade mica l'anno prossimo, scade fra due anni. Quindi sì, dai, c'è tempo, c'è tempo. Questa roba qua, ragazzi, l'ho letta anche in diversi articoli di giornale, dove si dice, vabbè, non c'è fretta, perché ricordiamolo che Teo Hernandez ha un contratto sia nel 2026. Quello che, secondo me, molti non capiscono è che più è importante il giocatore in questione, meno tempo disponibile c'è per rinnovare. Non so se ci sono spiegato. Cioè, se è un giocatore scarso, ragazzi, il rinnovo può anche venire una settimana prima della scadenza, che non muore nessuno. Quando un giocatore, invece, è importante, così come importante è Teo Hernandez, è bene essere lungimiranti, è bene muoversi prima, ma anche se lo vuoi vendere, intendo, non per forza per tenerlo. Poi, io, da milanista, mi auguro che, avendo Teo Hernandez, che è il terzino sinistro più forte al mondo, comunque mettiamo nella top 3, perché nella top 3, penso che siamo tutti d'accordo, tu lo devi tenere a tutti i costi. Perché se tu, tramite Ibra, in conferenza mi parli di progetto vincente, di futuro, il Milan che deve tornare a competere anche in Europa, non esiste, non esiste che tu dai via a Teo Hernandez. Sono due robe che contrastano, che cozzano tra di loro. Quindi, se quelle parole sono vere, io voglio credere che sia così, voglio credere che in qualche modo questa società voglia far bene, voglia vincere, eccetera. È chiaro che poi tu, Teo, me lo devi rinnovare. Me lo devi rinnovare e me lo devi rinnovare subito. Dani, ma il contratto scade nel 2026. Ragazzi, sappiate che il potere decisionale del Milan, no? Quando si dice ha il coltello dalla parte del manico. Il Milan, quest'estate, ha il coltello dalla parte del manico. Cosa significa? Che se dovesse venire una squadra, una big, che sia il Bayern Monaco, che sia il PSG, che sia lo stesso Real Madrid, e vuole Teo Hernandez, deve sganciare il cash. Ma deve sganciare il cash serio. Già tra un anno, perché lasciamo da parte il mercato di riparazione dove non succede mai nulla di eclatante, già tra 12 mesi, ragazzi, saremo a meno un anno dalla scadenza del contratto di Teo. E capite, se quest'anno tu puoi chiedere 120 milioni per Teo, sto sparando cifra a caso, il prossimo anno tu ti devi accontentare tra virgolette di 60-70 milioni. E questa è la differenza, perché? Perché se tu fai lo splendido, tra un anno intendo, non quest'anno, tra un anno, sempre che lui non abbia rinnovato il contratto, fai lo splendido e non accetti 60-70 milioni che siano, poi dopo sei mesi lo perdi a zero. Perché lui da gennaio, febbraio, non questo, il prossimo eventualmente, evidentemente, potrebbe anche accordarsi a gratis. e quindi capite che più tempo passa, meno tu hai il coltello dalla parte del manico. Poi, all'inizio di questa storia, ho fatto una premessa. Il Milan, se vuole essere competitivo in Europa, se vuole vincere, deve tenere Teo. Deve tenere Teo senza se e senza ma. Ve l'ho detto quello che penso io. È l'unico, secondo me, davvero insostituibile di questo Milan. È il più forte che abbiamo, secondo me. E quindi io mi aspetto il rinnovo del contratto. Ora, non dico adesso, non dico a fine europei, però secondo me sarebbe cosa buona e giusta a secondare le richieste di Teo Hernandez, che adesso prende 4 milioni e mezzo, che sono una cifra, cioè, bassa, tra virgolette, per il suo valore. Dani 4 milioni e mezzo, i calciatori sono viziati. Ragazzi, evitiamo la retorica. Per me anche un milione all'anno è tanto per un calciatore. Però in questo calcio, 4 milioni e mezzo per uno come lui, sono pochi. Lui chiede un adeguamento per arrivare a prendere quello che prende Leao, 7 milioni di euro. E secondo me, posso dirlo, è una scelta legittima, è una richiesta legittima per il suo valore, per quello che dà lui al Milan. vi ripeto, non fate le prediche. Dani, ma so tanti soldi, un operaio, lo so benissimo, lo so benissimo. In questo calcio, con questi valori, lui prende, tra virgolette, poco. E quindi, la sua richiesta ci sta assolutamente, in tal caso. Come vedete, quando ci sono giocatori forti, le altre squadre rinnovano il largo anticipo, è successo con Lautaro, è successo, se non sbaglio, anche con Barella, correggetemi se sbaglio, e quindi ci sta a essere super lungimiranti, quando si hanno i giocatori forti. Perché altrimenti, la minchiata è dietro l'angolo. Perché poi, più si va avanti, più è difficile trovare un accordo. E noi lo sappiamo benissimo, abbiamo perso tanti giocatori, anche per, come dire, un margine lieve. Siamo riusciti a perdere giocatori importanti, in passato. Il trio Donnarumma, Cialanoglu, che sì, nella dimostrazione. Quindi, onde evitare di portare avanti queste situazioni, che poi si ripresentano durante l'anno, nei momenti negativi del Milan, uscirà il discorso anche eh, rinnovo Teo Hernandez. Quanto sarebbe figo se il Milan rinnovasse adesso subito Teo? Lo rinnovi. Rinnovi lui, rinnovi Magnan. Ma ti metti l'animo in pace, dai il giusto a loro e siamo tutti felici. Siamo tutti felici. Perché vi ripeto, non sta chiedendo cifre folli, sta chiedendo un adeguamento dell'ingaggio per quello che prende le AO. E secondo me, vi ripeto, ci sta assolutamente. Perché? La minchiata è dietro l'angolo. Perché se non lo rinnovi, iniziano i malumori, iniziano a girare le voci che poi diventano sempre più più snervanti, a stagioni in corso che non è mai bello parlare di mercato e tu tra un anno hai anche a meno potere decisionale su Teo Hernandez. Quindi, per evitare tutto ciò, per evitare Tarantella e quant'altro, io mi auguro che Teo venga rinnovato il prima possibile. Ditemi cosa ne pensate, perché appunto il 2026 sembra incredibilmente lontano, ma per un giocatore forte come Teo è tremendamente vicino. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ora continuo a guardare l'Olanda, magari entra Zirse, sono curioso, sono curioso, ci vediamo presto ragazzi, un abbraccio, ciao.